Ciao, oggi ti voglio parlare di Time Rudiments di Maurizio Dei Lazzaretti, una guida per migliorare la percezione del tempo. L'obiettivo di questo libro è quello di lavorare sul senso del ritmo, a fine di sentire correttamente il tempo, attraverso esercizi di lettura, coordinazione, controllo del colpo, controllo del movimento, studio degli stili e molto altro. Gran parte degli esercizi si eseguono con le basi musicali, con le sequenze o le click track presenti nel CD. Il libro permette di sviluppare il senso ritmico interno e a dare giusto valore alle note e alle pause, per cui dopo un po' di pratica comincerai a pensare il ritmo in maniera chiara, stabile, precisa e corretta. Gli esercizi sono preceduti da una spiegazione molto chiara, dagli obiettivi che si intende raggiungere e i metodi per farlo. Quello che mi ha colpito molto è la semplicità, la sincerità e la convinzione con cui Maurizio spiega gli argomenti e con cui ci racconta alcune delle sue esperienze vissute in studio, live o in altri contesti, che ci possono essere molto utili nella nostra vita da batteristi. Personalmente ritengo che il libro sia il top nella sua categoria, un metodo molto interessante, divertente e creativo per studiare il ritmo in tutte le sue forme. Consigliatissimo se intendi sviluppare il senso del ritmo e migliorare il tuo orologio interno.